La verità è che esistono le favole sportive e questa è la dimostrazione. E' una sensazione incredibile, nel senso che è un traguardo che ho sempre sognato, senza quando ero più piccolo, ma è bellissimo. Non mi sembra vero, a me come tutta la squadra, lo staff, di essere i primi d'Italia. E' successo che abbiamo fatto delle fine nazionali in un crescendo rossignano. Dopo la prima sconfitta che poteva tagliare le gambe, abbiamo fatto 5 partite, una migliore dell'altra. Peraltro tutti in rimonta con partite pazzesche. La semifinale su tutte contro il padrone di casa è stata un'emozione unica e i ragazzi hanno voluto fortemente questo scudetto. Siamo campioni d'Italia a Cernusco e Sonnaviglio. E' un orgoglio per tutti noi, per tutti i ragazzi e anche per... Pestino gli altri sport ci hanno fatto i complimenti. E poi è la prima volta, anche perché non so quante volte, penso mai una società di 16-2, come prima squadra, ha vinto lo scudetto italiano. Quando è stato il momento in cui hai capito che ce la potevate fare? Ho capito quando eravamo sotto di 18, in casa dei padroni di casa, Bassano del Grappa, la squadra senza dubbio più accreditata per la vittoria del titolo, tant'è che aveva eliminato Vitus Bologna, campione uscente. Sotto di 18, 50-32, siamo riusciti con due attrazioni a stare comunque lì con delle buone difese, a fare due canestrelli. Infatti mi sono girato e ho detto agli altri allenatori che secondo me ce l'avremmo potuta fare, anzi ce l'abbiamo fatta. E poi la rimonta è stata pazzesca. Le due bombe di Capitan Franco sono state in là verso poi lo scudetto. A questo punto è d'obbligo chiederti qual è il segreto di questa squadra che è diventata campione d'Italia. Il segreto dei campioni d'Italia è il fatto che è un gruppo che sia sempre nato con grande voglia e grande determinazione e soprattutto lo spirito di squadra, perché abbiamo giocato veramente con grande coesioni sia in campo sia fuori, tutti i ragazzini, anche qui non convocati, erano i primi a incitare, anche nel turnover tutti insieme, lo staff, io in primi ci ho sempre creduto, abbiamo fatto delle ottime cose in attacco, ma soprattutto la coesione difensiva ci ha permesso di essere i primissimi in Italia e sicuramente è questo. Anche fuori dal campo siamo stati molto uniti, abbiamo fatto un giro andato pazzesco, un leggero calo anche con qualche infortunio nel periodo centrale, ma siamo arrivati all'appuntamento chiave al meglio, perché eliminare Reggio Emilia, eliminare l'Armani Gini's Milano, vincere Monta con Bassano eliminandoli, pazzesco, alla fine con Varese siamo partiti male, ma erano troppo in gas dal giorno prima e sentivamo il campionato italiano vicino e alla fine è stato così. Dopo la prima sera io non lo andavo a vedere, ma ero abbastanza giù di corda, perché abbiamo perso con Rai, era una partita quasi già vinta, l'unica che abbiamo condotto l'abbiamo persa, ma siamo stati bravi l'uno di sera comunque rimanere lì e andare avanti, abbiamo sempre ragionato gara dopo gara, questa forse è stata la nostra arma vincente, abbiamo mai pensato ma da settembre fino alle finali l'obiettivo era arrivare alle finali, arrivati alle finali, gara dopo gara, dopo la Rai eravamo ovviamente a spalle al muro, cinque gare di fila eliminazione diretta sono state per noi, poi dopo che abbiamo vinto con Reggio Emilia in quella maniera, veramente con tanto gas, facendo 83 punti contro una delle migliori sul panorama italiano, ci abbiamo creduto. Il derby ai quarti con Milano è stato emotivamente ricco di emozioni, poi con Milano è sempre una partita molto sentita, abbiamo vinto anche lì rimontando, e poi da quelli lì è stato piano piano tutto il gruppo che ha voluto lo scudetto più di tutti, i ragazzini sono campioni d'Italia e se lo meritano. Adesso è difficile riuscire a porsi un obiettivo più alto di questo, perché dopo essere campioni d'Italia cosa possiamo augurare? Innanzitutto bisogna tenerselo bene in mente perché qualcuno non è ancora realizzato e rimarrà sempre, l'albo d'oro e in generale varrà sempre, Cernusco è campione d'Italia a livello under 15, bisogna proseguire su questa strada, anche le altre andate devono andare avanti a fare bene, loro dovranno confermarsi comunque a buoni livelli e di meglio non c'è niente probabilmente. A livello umano è il massimo che si possa avere, perché con i ragazzi ha un rapporto bellissimo, tutti dal primo all'ultimo, per me non c'è il primo e l'ultimo, tant'è che l'esultanza è stata tutti insieme e anche loro veramente non so quanto ci credessero a settembre. I Buffet sono campioni d'Italia. I Buffet sono campioni d'Italia.